Un settore in ginocchio è quello del divertimento, un'industria che rischia di saltare. In Italia riguarda circa 3.500 aziende e 200.000 lavoratori. Le discoteche della regione, chiuse ancora per contenere l'impennata di contagi da Covid, sono il comparto che in assoluto sta pagando il prezzo più alto da inizio pandemia. E oggi il presidente della regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore regionale a turismo e commercio, Andrea Corsini, hanno incontrato il presidente del SILB FIPE Emilia-Romagna, Gian Nindino, alla presenza di una delegazione di gestori di discoteche. Occorrono ristori immediati, affermano Bonaccini e Corsini. Dopo il primo bando da 3 milioni di euro, la regione mette sul piatto a inizio anno un nuovo bando da 500.000 e dentro la primavera verrà attivato un terzo bando dedicato esclusivamente alle discoteche. Ma non basta, proseguono assessore e presidente, perché dobbiamo difendere i lavoratori e famiglie accompagnandoli fino alla ripartenza per non lasciare indietro nessuno. Chiederemo quindi al governo di aprire un tavolo di confronto urgente con l'obiettivo di far attivare risorse straordinarie per il settore. Occorre che venga fatto un ragionamento simile a quello che ha portato giustamente a destinare milioni di euro ai gestori degli impianti di sci. Si tratta di settori che hanno pagato un prezzo enorme per la pandemia e che devono essere trattati con strumenti simili. Le discoteche sono chiuse con poche eccezioni ormai da due anni.